Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menz, benvenuti in questo nuovo video di Foot, siamo sul DLC dei mondiali e cosa facciamo oggi? Quello che vi ho detto nello scorso episodio, scusate se parlerò un po' bassa voce ma l'ora è tarda quindi questa è la mia formazione, una formazione di merda, ancora praticamente non sono riuscito a vincere una partita quindi cosa facciamo? Andiamo a fare un po' di pack opening, aprirò circa 100.000 crediti di pacchi e quindi noi andiamo a vedere che cazzo troviamo, ho già 5 pacchi qui pronti ad essere aperti e poi andrò ad aprire gli altri, quindi andiamo col primo pacchetto questo dovrei trovare solo un giocatore qui ecco, ho trovato un giapponese, un coreano ok signori, in quei pack non ho trovato un cazzo, quindi andrei con questi qui dove vado a spendere 5.000 crediti alla volta andiamo, si va con il primo pacchetto, non ho trovato niente in quelli prima, solo sudcoreani quindi andiamo con questi, non so se guardare, guardo, ma sì dai, me li guardo, me li guardo tutti, me li guardo basta con questi coreani, non ne posso più veramente Fernandez, Salim, ma chi sono? Capino! Capino è fortissimo ragazzi, è alla mia età Capino è fortissimo, Vargas Omerudo, Samaras ok, va bene, va bene, un pack oro gratis, riscatto a pacchetto gratis e poi sta roba qui la invio al club via col prossimo pack taglie, 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 taglie qualcuno di buono, qualcuno di buono, chi è? Valdez, Zagoyev, Adia, Arrojo doppione, tutti i doppioni, adesso non iniziamo, dai, fammi trovare qualcuno di buono vai col prossimo pack non ho visto Aquilani Bassong Gugugusami e Kovacic Ostia Kovacic va bene, Kovacic vai col prossimo Fanny, ma basta Fanny Guerron Götze Mario Götze finalmente qualcuno di importante per il Deportivo La Carogna e ho visto anche un De Bruyne un De Bruyne che non è male un De Bruyne che non è male non è per niente male Meja Tabarez e basta con sto portiere che mi ha rotto proprio il cazzo arriverò ad aprire una ventina di pack intorno Baines Leighton Baines Leighton Baines Cameron Frimpong Barclay buono, buono Martins Indy comunque non sono giocatori estremamente forti però comunque vanno assolutamente bene vanno assolutamente bene inviamo tutto al club poi ci pensiamo dopo a fare una buona formazione alla fine di tutto vi farò vedere anche le mie formazioni riuscimmo ad aprire una ventina di pacchetti più quelli quelli bonus credo andiamo a vedere chi trovo qui forza 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 non posso non posso non posso fare niente di strano però guardo adesso burdissimo non vai a cagare burdissimo il Sharawi buono il Sharawi Leandro Dammeau Visca Agikaki dai ragazzi fammi trovare qualcuno di importante fammi trovare qualcuno di di pesante qualcuno di che possa trascinare questo deportivo alla carogna alla vittoria del mondiale cazzo fammi trovare qualcuno di decente chi è? Helder Postiga Helder Postiga ma basta stessuto a coreani dio bono ancora capino no Glicos Dauda ma chi è Dauda? non vedo così non vedo di sicuro chi è? Thompson Wilkshire Johnson Cerci Alessio Cerci Zayrov Scar 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 lo voleva comprare l'int e Kiyotake basta questo lo fisso questo lo fisso dritto negli occhi forza 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 Gero forza Messi ma chi è? Yaya Ture Ture beh Adler Sossa Alvarez Diamanti Lodd Gigi forza 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 non mi mollare forza non mi mollare forza non mi mollare Papadopoulos portacci tua Basantia ma male siamo a metà signori non ho ancora trovato praticamente nessuno a parte di decente potrei fare una squadra italiana però insomma non era proprio il mio obiettivo ecco che cazzo è Foster Mbia Emegara Emegara c'ha 94 di velocità Emegara gli buono però due maroni dai forza 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 questo signore si vola al contrario di schiena di culo dai dai come il Cristo Redentor ci siamo ci siamo ci siamo chi è Godin Godin Shadley Godin dai aprimelo questo fammelo per bene fammelo per bene cazzo fammelo per bene fammelo per bene che non guardo fammelo per bene che non guardo che cazzo è The Miley Crunch Arma ma che cazzo sono forza in single col giro forza in single col giro Messi Song Addo Addo ma che cazzo è Addo Samir Samir Mortacci tu Samir concentrato concentrato ehi Ting madonna Coppa chi è Coppa forza gli ultimi quattro pacchetti e poi ci saranno quelli extra ad aprire suppongo forza questo Nani ha funzionato cazzo almeno qualcuno di decente Nani Borrosque marrone Muriel ma almeno viazza quel poveretto non fa funzionato Petric Boateng ma guardate quel Boateng lì ragazzi ma guardate quel Boateng lì ma guarda come è messo no però scusami non mi puoi mettere nello stesso pacchetto due dell'Honduras cioè Mendoza e Velasquez niente signori l'ultimo pack l'ultimo pack questo si apre così questo si apre così proprio De Rossi Ramirez Ramirez Boateng aiovi aiovi ragazzi aiovi ok signori abbiamo comunque 23 pacchetti da aprire saranno comunque pacchetti con un solo giocatore suppongo ma no ma no include 12 oggetti compreso i giocatori consumabili almeno 10 oro di cui uno raro quindi proviamo con Vidal signori proviamo con Vidal forza Inter ma proviamo con Vidal proviamo con Vidal Varane così alla grande sto rari Jesus Varane non c'è più tempo da perdere cosa c'è qua cosa c'è chi è Agnuko via aprimelo aprimelo chi c'è Santa Maria oh madre di Dio da Grascosta ed Ida santo Dio Santa Maria madre di Dio questo lo guardo semplicemente questo lo guardo come due persone normali Fernandinho buono buono Fernandinho è buono Fernandinho è buono forza Falcao forza Falcao forza Falcao dai che mi ubriaco Monreal naccio Monreal e poi ho Sbilisse questo Sbilisse è forte questo è forte Tonucci Verratti e tra l'altro velocità imbarassante McCartney dai forza questo pacchetto è buono me lo sento me lo sento chi cazzo è gli Agielka non è male però insomma gli ultimi gli ultimi pacchetti signori non ho trovato nessuno una tristezza atomica veramente una grandissima tristezza Mangala Mangala Bacca Bacca è forte l'ultimo pacchetto signori l'ultimo l'ultimo pacchetto Arteta Arteta Alapsi Alapsi Sisse ancora Sisse ragazzi per favore guardate questo guardate questo e niente ragazzi il video finisce qui spero che vi sia piaciuto noi ci vediamo in un prossimo video dove vi farò vedere la mia formazione vi farò vedere qualche partita lasciate un mi piace un commento un consiglio e alla prossima ciao a tutti ragazzi